ci siamo consiglio di fare una cosa di resettare tutto gli ultimi 5 derby vinti bisogna resettare tutto contro questi qui e non pensare non fare l'errore di pensare di essere più forti a prescindere devi resettare tutto quando ci sono queste partite qua ovviamente parlo della mente dei giocatori ci siamo ragazzi il derby sta ci stiamo affacciando al derby io vi rinnovo diciamo cerco di invogliare le persone che guardano i miei video a iscriversi ripeto ho analizzato dei dati mi sono fermato ieri ho analizzato dei dati di questo canale mi dice che è un canale anche ti dice anche la categoria del canale youtube studio ci sono proprio dei programmi appositi questo è un canale da 22-23 mila iscritti secondo i programmi che ci sono su youtube che analizzano i canali e mi dice che su 4 utenti se ne scrivono uno uno e mezzo quindi io non capisco perché non vi vogliate iscrivere al canale è un click è gratis se non avete la mail gmail ma avete hotmail fate una mail gmail e iscrivetevi al canale forse è questo il problema non avete perché per iscriversi sul canale serve gmail la hotmail non va bene non capisco però perché questo canale debba avere così poche iscrizioni con 4 milioni di visual in 16 mesi non capisco perché tra l'altro con pochissime live e pochissimi video perché io faccio pochi video e pochi live live quasi quasi mai quindi vuol dire che ha uno share molto ma molto maggiore rispetto a questi 7 mila iscritti il problema l'ho capito è che la gente che guarda i miei video non si iscrive al canale se vi sembra giusto fate voi cosa vi devo dire visto che non lo faccio per soldi ma comunque è una soddisfazione personale no è comunque un segno di gratitudine da parte vostra l'iscrizione al canale ed è giusto che questo canale faccia un salto di qualità per tutto comunque quello che è stato detto per tutto quello che è stato fatto indipendentemente dai miei video parlo anche dei ragazzi della situazione finanziaria delle live perché quando tutto sarà a posto noi quelle live le ripasseremo sul canale quando tutto sarà andato a dama noi abbiamo già abbiamo già messo in fila quale mail passare quale scusami quale live ripassare sul canale soprattutto una che ho fatto io nove mesi fa è tutto lì non ti preoccupare no io dormo davvero poco poi ragazzi ho un fratello milanista che ci scanniamo da una vita sul derby anche lui stamattina ha cominciato vedi prese per il culo sì comunque gli ho detto ridi ridi vediamo poi dopo stasera chi ride di più tramite per ora ho sempre riso io sembra che addirittura a scelvi sia passato in vantaggio su devrai ora io ti dico ho cercato di pensare perché ho cercato di entrare nella mente dell'allenatore e capire perché e capire perché in zaghi ed è vero sta cercando in tutti i modi di far giocare a scelvi secondo me allora quando hai un attacco come quello del milan che milan a livello tattico è una squadra prevedibile ma occhio alle giocate dei singoli però attenzione eh bisogna stare molto attenti alle giocate dei singoli quindi quando te hai il centrale che esce con la palla cioè devi avere un centrale che esce con la palla in maniera pulita libera come come fa anche devrai no però secondo me ti ripeto è un mio dubbio ho cercato di entrare nella testa di in zaghi a parte il fatto che come ho detto anche ieri il signor a scelvi si è sempre messo in tasca a girù non si è mai girato con a scelvi soprattutto negli ultimi tempi io penso che a scelvi sto parlando dell'uscita palla e penso che questo sia il dubbio di in zaghi avendosi trovandosi davanti pulisic leao e girù io penso che in zaghi abbia dei dubbi sull'uscita palla di devrai che spesso si prende degli ischi mentre a scelvi eh nell'uscita palla è molto più tranquillo cosa voglio dire che nell'uscita palla è molto più tranquillo che ha un'uscita palla ha una regia molto più elementare un'uscita intelligente con la palla a scelvi ma elementare quindi non rischia la giocata e per quello secondo me oltre il fatto si è sempre messo giro in tasca che in zaghi vuole far giocare a scelvi e nell'uscita palla questi sono dati di fatto a scelvi a un margine di errore nettamente inferiore a quelle di devrai forse è questo il cruce che c'ha in testa te lo ripeto è una mia impressione non ho la verità in tasca con certi avversari quando ti trovi davanti una certa linea di attaccanti con certi avversari quando esci ho la palla devi cercare di minimizzare proprio gli errori capito anche il passaggio passaggio devi fare bello perfetto non devi rischiare perché quello allunga ci sono giocatori esplosivi davanti tranne Giroud allunga la gamba te la prendono te la intercettano forse è questo il dubbio che c'ha in zaghi capito ho letto prima che a scelvi sembrerebbe in vantaggio io non mi meraviglierei di vedere a scelvi il titolare è anche vero che devrai ha fatto tre partite una meglio di un'altra ma di centro abbassato cosa abbiamo già detto tutto quello che ti pare le parole di Arnautovic attenzione qui qui allora forse non ci siamo capiti perché poi i numeri parlano chiaro a noi ma no ma io non sono il difensore di Turam perché andavo contro tutti prendiamo Turam rotto invece di prendere Correa poi ora anche in live tutti i ragazzi ve lo siete ricordati io non voglio mi diciate bravo Giuse Rilunio dicevi di prendere Turam e non Correa addirittura dicevi di prendere Turam infortunato Giuse ma come facevi non facevo nulla conoscevo il giocatore seguendo la Bundesliga perché io fino a due anni fa ora molto meno tempo seguivo due tre anni fa seguivo tantissimo la Bundesliga tra l'altro il signor Turam è uno che a ventidue ventitré anni fa una doppietta in Champions League a Real Madrid tanto per capito vai a vederti la doppietta di Turam a Real Madrid in Champions League vai se prendiamo però i numeri signor Marco Arnato vi c'è un giocatore che a me piace ma non mi dà garanzia a livello fisico io a livello fisico ho dei grossi dubbi su questo giocatore e spero che mi smentisca ma chi lo definisce un goleador il signor Arnatovic secondo me dovrebbe guardare ma stesso F oppure altre cose invece del calcio perché il signor Arnatovic allo Stock City in centoventisei presenze fa ventidue gol centoventisei presenze Arnatovic allo Stock City ventidue gol vai a controllare il signor Turam centoundici presenze al Borussia trentaquattro gol ma di cosa state ragionando? chi sarebbe tra Arnatovic e Turam il bomber è Turam non è Arnatovic forse non ci siamo capiti i numeri parlano chiaro andate su Wikipedia giocatore statistiche carriera guardate i gol di Turam la carriera ovviamente di Turam è molto più giovane e guarda il fenomeno Arnatovic quanti gol ha fatto guarda nel Bologna 60 partite e 20 gol guarda con quanti rigori ha fatto 20 gol non è un bomber Arnatovic Arnatovic è un giocatore che ti può tenere sulla squadra che è forte tecnicamente è bravo negli spazi stretti è molto forte e permette ai centrocampisti di inserirsi ma Arnatovic è tutto all'infuori con bomber non lo è mai stato e mai lo sarà anzi Arnatovic fa molti meno assist di Turam se lo vuoi sapere e Arnatovic non ha né la forza né la forza né l'esistenza che ha Turam sono due giocatori totalmente diversi perché sennò qui ora si vuole far passare che Arnatovic è un bomber Arnatovic non è mai un bomber ha fatto a malapena 20 gol in Cina Arnatovic ma di cosa ragioni? ripeto un bel giocatore personalità l'Inter non aveva soldi ha dovuto fare quest'operazione per l'amor di Dio non si poteva prendere di meglio Arnatovic in Serie A qualche partito la può fare ci mancherebbe io non sto dicendo ma chi dice che Turam segna poco guarda che Turam segna più di Arnatovic se guardi i numeri guarda ci sono i numeri i numeri parlano chiaro quindi ragazzi smettiamola di dire le pagionate come per favore io non voglio criticare nessuno ma smettiamola di dire che lo stadio lo fa l'Inter e chi è l'azionista di riferimento dell'Inter non è Zang fanno un mutuo per l'ho sentito delle robe però manca un miliardo nei conti che hanno fatto no ma l'Inter fa un mutuo l'Inter non si può impegnare più nulla forse forse ragazzi non ci siamo capiti che l'Inter l'Inter non può dare più nessuna tipologia di garanzia chi è l'azionista di riferimento dell'Inter è Zang di chi è l'Inter è di Zang quindi che garanzie potrebbe dare l'Inter che le ha impegnate tutte per il bond l'Inter non può garantire più nulla l'azionista di riferimento poi che è Zang che garanzie può dare basta ragazzi dai cerchiamo di volerci bene tutti fa un mutuo hanno fatto conti manca un miliardo dai ragazzi scherziamoci su dai senza senza dire parolacce senza arrabbiarsi comunque capito che ti voglio dire cioè ragazzi i numeri parlano chiaro andate a controllare i numeri cioè tra Turam e Arnautovic segna più Turam di Arnautovic e fa anche molti più assist gioca di prima cioè ragazzi sono due giocatori ad oggi sono due giocatori di pianeti totalmente diversi cioè Turam è proprio di un altro pianeta rispetto ad Arnautovic giocatori diversi da lì a dire che poi anche Arnautovic ti possa fare comodo certo ci mancherebbe quello è un altro discorso ci becchiamo più tardi ciao Winter questo vedi questo bisogna bisognerebbe studiarlo un pochino ciao Winter grazie a tutti